I messaggi, alcuni altri esiti sempre delle indagini riguardanti il telefono della vittima letti anche alla luce dei dati forniti dalle telecamere hanno orientato nel senso che sapete. Questi sono gli elementi che sono fondamentali in un'indagine moderna per poter raggiungere in breve tempo a dei risultati apprezzabili. Naturalmente se non vengono valorizzati come lo sono stati in questo caso in altri casi che ben conoscete da un'intelligente attività delle forze di polizia sul campo poi i risultati però non vengono. Quindi è veramente apprezzabile la capacità della Polizia di Stato e dei Carabinieri in questo caso di acquisire in breve tempo questa documentazione e soprattutto di servirsene per individuare fra le tante, perché tante erano, piste e possibilità che si prospettavano nel primo momento quella che poi si è rivelata la più esatta. Diciamo che la persona individuata come responsabile in breve tempo ha comunque messo di fronte all'evidenza degli elementi che si erano acquisiti a suo carico ha comunque ammesso, è stato sostanzialmente collaborativo.